cari amici e cari amiche di angoli benvenuti e ben ritrovati a tutti voi partiamo con questo nostro approfondimento dedicando attenzione ad una nuova stagione concertistica che vedrà protagonista la filarmonica Ettore Pozzoli ma vogliamo conoscere tutto nel dettaglio e ne parliamo con il nostro primo ospite in studio io saluto e ringrazio Luca Ballabio grazie alla direttore musicale proprio della filarmonica Ettore Pozzoli ciao ciao Dolores piacere mio essere qua a ritrovarti grazie a te Luca come ho detto parte una nuova grande stagione che sicuramente vede le due facce della medaglia il grande interesse che ci sarà da parte del pubblico e il grande impegno da parte vostra ce ne parli da dove vuoi partire assolutamente ma hai detto bene due facce della stessa medaglia e infatti anche quest'anno per la quinta stagione dei grandi concerti abbiamo cercato di soddisfare un po tutte le esigenze del nostro pubblico che è varia variegato e quindi anche noi abbiamo cercato di proporre degli appuntamenti che accontentino a secondi noi diversi gusti musicali iniziamo il 17 febbraio venerdì al teatro Manzoni a Monza con un concerto sinfonico peraltro il cui ricavato andrà a sostegno dell'attività della cooperativa La Meridiana quindi non solo l'occasione di sentire grande musica ma anche di fare del bene concretamente visto quello di cui si occupa questa associazione e proseguiremo con una serie di appuntamenti che spaziano dal tango alla musica classica alla musica per archi alle piste atrali perché abbiamo due appuntamenti dedicati a Maria Callas nel centenario della sua nascita che andranno ad indagare da un lato la relazione professionale e sentimentale con Pierpaolo Pasolini e invece nel secondo appuntamento in arte Maria Callas rivivremo un po' il costume e la società a lei contemporanea attraverso una sorta di finta intervista alla diva dell'opera lirica quindi ci sarà un po' per tutti per tutti i gusti e questo credo anche a margine di un lungo periodo di sperimentazione perché voi arrivate ad una quinta stagione e quindi di sicuro avete avuto modo anche di raccogliere le impressioni le intenzioni e i desideri del pubblico e quindi di adattare anche in work in progress la vostra programmazione siete stati dai furbetti esatto diciamo che ci stiamo un po' stiamo raccogliendo le nostre certezze e stiamo ovviamente lavorando su quello che invece c'è ancora da migliorare da implementare ecco per esempio la più grande novità di quest'anno sta nel fatto che per la prima volta i concerti vedranno tre diverse location questo anche per valorizzare i vari luoghi che la Brianza può offrire per una stagione concertistica quindi avremo come sempre il teatro San Rocco da quest'anno avremo l'onore di poter essere ospiti anche del teatro Manzoni di Monza e poi per gli ultimi due appuntamenti saremo ospiti di Villa Longoni a Desio quindi una dimora storica e anche questo ci piace sottolinearlo perché insomma oltre all'aspetto culturale nostro ci piace sottolineare l'aspetto culturale di chi ci ospita naturalmente sì in chiusura dove raccogliere tutte le informazioni e come partecipare c'è una prevendita che si fa? c'è una prevendita ci sono tutte le informazioni sul nostro sito www.filarmonicattorepozzoli.com e su tutti i nostri social quindi Instagram, Facebook ricordiamo il primo spettacolo? il primo spettacolo è il 17 febbraio ore 21, teatro Manzoni, la fragilità dei giganti bene, grazie a Luca Ballabio e in bocca al lupo a tutti quanti a prestissimo, grazie ma naturalmente non è tutto perché continueremo a parlare di musica e ancora una volta vi portiamo direttamente a Sanremo dove per noi c'è Simone Zani ciao Simone ormai ci siamo, ciao ciao a te, ciao a tutti i telespettatori, hai detto bene, ormai ci siamo siamo alle battute finali, siamo in dirittura d'arrivo e devo dirti che inizio a sentire la tensione anche perché le canzoni mi piacciono sempre di più ascolto dopo ascolto crescono e a questo punto non vedo l'ora di vedere chi effettivamente la spunterà e allora senti qualche pagella anche perché ormai è entrato in gioco anche il voto del pubblico e quindi può essere molto molto significativo diamo qualche indicazione per esempio quali sono i brani che secondo te sono davvero meritevoli anche da un punto di vista dell'arrangiamento per esempio guarda io sono sempre molto colpito dal lavoro di Marco Mengoni perché lo abbiamo detto più volte lui è il super favorito di questa edizione del Festival di Sanremo ma ha creato un pezzo che non è il classico pezzo sanremese è una ballata ma con delle sonorità molto moderne quindi anche con un testo che una volta veniva definito indie addirittura per l'utilizzo di determinati termini come per esempio Angover che non è sicuramente una canzone usuale e solita per il palco dell'Ariston poi sai a livello di arrangiamento come si può non considerare il lavoro di Lazza per esempio il maestro Enzo Campagnoli è stato straordinario nel riuscire ad unire comunque quella componente elettronica che poi si trova nel pezzo legato a quella che è la competenza musicale di Lazza legato al lavoro di Dardast quindi comunque una commistione incredibile diciamo che poi vorrei citare anche Gianluca Grignani che porta questo pezzo così speciale dove si sente parecchio la mano di Enrico Melozzi anch'io sono d'accordo le canzoni sono davvero un po' per tutti i gusti a tal proposito vorrei sentire anche la tua opinione in questo senso perché ci sono tanti giovani e tanti stili nuovi questo stile indie che anche tu hai citato e forse ci stacchiamo un po' da quello che è il modo tradizionale di amare affezionarsi alla canzone Sanremese perché di solito il ritornello che resta subito nell'orecchio poi ci porta a votare per quella canzone mentre in questa edizione tanti brani magari richiedono più e più ascolti soprattutto quelli dei giovanissimi che ne pensi? sono d'accordo con te perché effettivamente l'argomento dei giovanissimi può essere legato al fatto che i ragazzi che arrivano da Sanremo Giovani sono stati un po' penalizzati perché effettivamente il livello è talmente alto che la classifica sta penalizzando questi ragazzi che sicuramente meriterebbero qualcosa di più e probabilmente avrebbero meritato in questo caso una categoria a parte che è vero che da un certo punto di vista può essere considerata superata però diciamo che mettersi in gioco e andare contro artisti del calibro di Giorgia, Marco Mengoni piuttosto che con la pesce di Martino questo può essere complicato effettivamente la classifica sta dando ragione a chi non ha apprezzato la scelta di portare sei giovani dalla selezione quella per i ragazzi Hai citato con la pesce di Martino che arrivano diretti dal grande successo della scorsa edizione e pare che anche in questo Sanremo 2023 potranno dire davvero la loro e piazzarsi molto bene perché il pezzo è stato molto molto amato sin dalla prima esibizione Ecco sì, poi a differenza appunto di quello che fecero con Musica Leggerissima che fece un po' fatica al Festival di Sanremo all'inizio poi invece arrivò quarto, vinse il premio delle radio e tv private e arrivò secondo al premio della critica Questa volta secondo me c'è la possibilità di vederli sul podio il premio della critica lo vedo come possibile o forse addirittura come probabile Bene, quindi detto questo come possiamo dare qualche suggerimento agli amici a casa perché naturalmente possono interagire, a questo punto possono votare e addirittura influenzare la classifica e quindi il vincitore Quali sono le modalità per dare veramente un voto significativo? Ma secondo me oggi comunque con le piattaforme digitali e col fatto che tutte le canzoni sono state inserite in rotazione pressoché subito c'è la possibilità di ascoltarle a scelta proprio utilizzando un telefono o un computer quindi una volta appunto era più complicato bisognava aspettare quella che passava la radio bisognava aspettare di andare a comprare il cd che usciva solitamente qualche giorno dopo oggi invece è più semplice quindi se volete votare io invito tutti poi a utilizzare il televoto proprio per contribuire anche al successo di una canzone quindi il successo di una canzone che va al di là di quelle che sono le classifiche ma è proprio legata a quello che è l'amore della gente nei confronti della carmessa Simone io ti ringrazio naturalmente non ti chiedo di sbilanciarti per un preferito ma almeno per due così almeno c'è un 50 per 50 quali sono i tuoi due brani più amati? allora io ti direi Marco Mengoni perché effettivamente è un pezzo incredibile poi sai possiamo anche immaginarlo in modalità Eurovision Song Contest per Marco sarebbe una bella conferma di una carriera iniziata ormai quasi 15 anni fa e che ha visto proprio 10 anni fa il ritorno in auge grazie a Sanremo poi ti dico un secondo nome un po' sorpresa, quello degli articolo 31 perché hanno un pezzo che per chi ama gli anni 90 ha un significato bene grazie a Simone Zani per averci guidato in questo Sanremo 2023 appena finisco io prendo la macchina e ti raggiungo ci vediamo la finale insieme ciao Simone io ti sto aspettando grazie, ciao, un saluto da Sanremo ciao, ciao e prima di andare in pubblicità vi segnalo qualche evento per il weekend a Como sabato 11 febbraio alle ore 16 al centro Donguanella in via Grossi 18 l'associazione Jubilantes presenterà il nuovo annuario e programmi per il 2023 durante l'evento sarà possibile associarsi o rinnovare l'associazione al sodalizio che propone la riscoperta di cammini e della cosiddetta mobilità lenta sempre a Como domenica 12 febbraio alle ore 16 la piccola accademia di teatro gruppo popolare di via Castellini 7 ospiterà Chicco dedicato ai bambini a partire da due anni di età uno spettacolo che in una sorta di lunga ninna nanna accompagna la crescita di un bambino e la scoperta del mondo biglietti a 5 e a 7 euro andiamo a Chiasso Sergio Castellitto protagonista al cinema teatro della città ticinese nella fine settimana il popolare attore porta infatti sul palco lo spettacolo Zorro un'eremita sul marciapiede di Margaret Mazzantini appuntamento sabato alle 20.30 e domenica alle 17 andiamo ad Abbadia Lariana domenica 12 febbraio torna la fiera dedicata a Santa Pollonia nel paese in provincia di Lecco l'apertura sul lungo lago sarà alle 9 tra le iniziative cucina di tradizione stand delle associazioni e visite guidate al museo civico Monti è la volta di Varese domenica alle 16 il teatro di Varese in piazza della Repubblica ospita le mille bolle magiche sul palco Silvia Gaffurini conosciuta come la fata delle bolle biglietti in vendita a 15 e a 20 euro siamo ora a Monza dove fino a domenica studentesse e studenti del Politecnico di Milano espongono idee e progetti sul recupero di alcuni edifici del parco di Monza la mostra si trova nella sala convegni del teatrino della Villa Reale l'apertura dalle 10 e 30 alle 18 e 30 ricordiamo infine anche l'appuntamento su espansione tv con Ciac Italia la rassegna di grandi film che hanno fatto la storia del cinema italiano domenica alle 17 andrà in onda cronache di poveri amanti film del 1954 di Carlo Lizzani tratto dall'omonimo romanzo di Vasco Pratolini e c'è ora una breve pausa e poi torniamo insieme